Separazione Francesco Totti Ilari Blasi, le news 15 settembre 2022 19.33 Ilari Blasi senza talento, ha lasciato Totti quando si è sistemata, Sean Brocca nega, mai detto Sean Brocca smentisce le dichiarazioni a lui attribuita proposto di Ilari Blasi, sua ex fidanzata Era stato Fabrizio Corona a interrogarlo a proposto di quella vecchia storia d'amore Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Separazione Francesco Totti Ilari Blasi, le news attiva gli aggiornamenti a poche ore dalla pubblicazione dei messaggi che Sean Brocca avrebbe scritto a Fabrizio Corona a proposito di Ilari Blasi, arriva la smentita del modello Via Instagram, l'uomo fa sapere di non avere mai pronunciato alcune delle dichiarazioni che gli sono state attribuite In una storia, Brocca evidenzia la parte incriminata. Recita, lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con passaparola, come tutte le altre Alla fine, lei l'ha lasciato quando lui ha perso tutto e dopo che si era sistemata Lei sapeva e ha accettato per 20 anni perché le conveniva Sean Brocca, mai dette queste cose La storia pubblicata tra gli highlights del profilo di Sean Brocca, il modello si concentra su questo passaggio e scrive Io non ho mai pensato, scritto o detto queste cose A pubblicare tale passaggio era stato Fabrizio Corona sul suo pirofilo Instagram, disattivato solo pochi giorni fa Le dichiarazioni che Fabrizio Corona ha attribuito a Sean Brocca Chi è Sean Brocca? Sean Brocca è un modello Nato a Venezia, negli anni della relazione con Ilari era considerato uno tra i ragazza più belli di Milano Il legame con la conduttrice dell'Isola dei Famosi dirò circa un anno, come lui stesso ha raccontato Si interruppe quando Ilari decise di dare una possibilità a Francesco Totti che le aveva fatto una corte serrata per mesi Il resto è storia, Totti e Ilari si innamorarono e decisero di sposarsi, insieme hanno avuto tre figli, fino al tristissimo e recente epilogo Il loro matrimonio è finito, regalando al pubblico decine di colpi di scena L'ultimo è arrivato da Totti che in una clamorosa intervista ha raccontato di essersi allontanato dalla moglie dopo avere scoperto un tradimento Un'accusa alla quale Ilari non ha ancora pubblicamente risposto L'unica notizia filtrata da parte della conduttrice riguarda la volontà di restare in silenzio per tutelare i suoi figli E infine, grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video